Benvenuti nel cuore di notizie e gossip. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, vi chiediamo un sostegno, un semplice gesto come un mi piace a questo video. E l'iscrizione al nostro canale rappresenta per noi un segno di importanza immensa. Grazie di cuore. Iniziamo con una storia che sta toccando il cuore di molti. La scomparsa di Giulia Cecchettin, avvenuta lo scorso sabato. Un caso che ha suscitato grande preoccupazione e che oggi vede un nuovo sviluppo. Il padre di Giulia ha deciso di rompere il silenzio e affrontare la situazione insieme alla famiglia di Filippo Turetta, il suo ex fidanzato, con cui è stata vista per l'ultima volta. Le famiglie dei due giovani hanno lanciato un appello ai loro figli, implorando di tornare a casa al più presto. La storia prende una svolta con la Fiat Grande Punto Nera, l'auto utilizzata da Giulia e Filippo, che è stata vista ancora in movimento fino a ieri notte. Questa informazione, confermata da Edoardo Genovese, un criminologo che sta offrendo il suo supporto alle famiglie, apre nuove prospettive nelle ricerche. La vettura è stata registrata sabato notte ed è stata successivamente avvistata su un varco elettronico con la targa STEAM in un'area dell'alta provincia di Belluno. Tuttavia, fino ad ora, gli accertamenti in questa zona non hanno prodotto risultati concreti. Il papà di Giulia e i genitori di Filippo si sono presentati davanti ai giornalisti, rivolgendo brevi dichiarazioni direttamente ai loro figli, chiedendo loro di tornare a casa il prima possibile. Hanno anche fatto un appello accorato a chiunque abbia visto la Fiat guidata da Filippo, chiedendo di segnalare alle forze dell'ordine eventuali avvistamenti. Concludendo questo segmento, vorremmo sapere cosa ne pensate di questa incredibile notizia. Scrivete un commento sotto al video per condividere i vostri pensieri. E non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle prossime notizie. Grazie per averci seguito. A presto.